Prove risalenti al 238 a.C. dimostrano che gli antichi egizi riconoscevano la necessità di un anno bisestile per correggere la lenta deriva delle stagioni. Ecco tutto quello che sappiamo. Ogni quattro anni aggiungiamo un giorno in più al calendario per tener conto del fatto che l'anno solare è approssimativamente di 365 giorni e 6 ore, e non di 365 giorni esatti. Ma da quanto tempo esiste l'anno bisestile? Da almeno 2262 anni, e lo prova uno spettacolare ritrovamento avvenuto nel deserto egiziano. La stele di Tanis è una lastra di calcare alta più di due metri e larga quasi un metro, scoperta nel 1866 da un gruppo di studiosi tedeschi in visita al sito dell'antica città egizia di Tanis, nel delta del Nilo. Come la più famosa stele di Rosetta, reca un'iscrizione in due lingue, l'Egizio, scritto sia in geroglifico che in demotico, e il greco antico. L'iscrizione, datata al 238 avanti Cristo, riporta un decreto del faraone Tolomeo III che segue gli standard dell'epoca, includendo elogi per il faraone, una descrizione delle campagne militari e la disposizione che una copia del decreto venga eretta in ogni tempio di rilievo. Ma la vera novità di questo decreto noto come decreto di Kanopo, dal nome dell'antica città egizia in cui fu emanato sono le istruzioni relative al calendario. E affinché le stagioni corrispondano sempre all'ordine stabilito dell'universo e non accada che alcune delle feste pubbliche che si svolgono in inverno siano celebrate in estate, poiché il sole cambia di un giorno nel corso di quattro anni. Si è deciso di aggiungere d'ora in poi un giorno di festa in onore degli dèi, ogni quattro anni ai cinque giorni supplementari, prima del nuovo anno, affinché tutti sappiano che il precedente difetto nella sequenza delle stagioni. Secondo Adrienne Almasi Martin, egittologo dell'Università di Oxford, i primi riferimenti a un calendario di 365 giorni, che prevede un anno composto da 12 mesi di 30 giorni e da 5 giorni epagomeni, giorni senza mese, aggiunti al calendario per renderlo approssimativamente uguale all'anno solare, si trovano nei documenti della IV e V dinastia egizia, intorno al 2600 a WC. L'imprecisione che ne deriva è sufficiente a causare una lenta deriva delle stagioni nel calendario. Gli antichi egizi avevano notato una coincidenza celeste che si verificava ogni anno in concomitanza con l'inondazione del Nilo, l'apparizione di Sirio, la stella più luminosa del cielo. Così come alcune costellazioni non sono visibili tutto l'anno, Sirio non era visibile agli antichi egizi per gli stessi 70 giorni consecutivi di ogni anno, perché era troppo vicina al sole. Ogni anno, dopo questa assenza, Sirio riappariva all'orizzonte orientale nel cielo dell'alba, sorgendo vicino al sole e poco prima di esso, un fenomeno noto come, levata eliaca. La civiltà egizia dipendeva dalle periodiche inondazioni del Nilo che portavano il ricco limo che fertilizzava i campi coltivati. La ricomparsa di Sirio, legata come era alla fondamentale inondazione del Nilo che si verificava in corrispondenza del solstizio d'estate, era osservata con attenzione e nell'antico Egitto annunciava l'inizio del nuovo anno. Misurando il tempo trascorso tra ogni levata eliaca annuale di Sirio, gli astronomi si resero conto che l'anno solare era più lungo di un quarto di giorno rispetto ai 365 giorni stabiliti. Sebbene sia probabile che gli egizi fossero consapevoli di ciò già da prima, il decreto di Canopo del 238 avati Cristo, è la prima testimonianza documentata dell'anno bisestile giunta fino a noi. Secondo Almasi Martin, nell'antichità sarebbero esistite più copie del decreto di Canopo, di cui sono sopravvissute fino a oggi sei versioni complete o frammentate. I due reperti meglio conservati, scoperti a Tanis nel 1866 e nel sito di Comellism nel 1881, si trovano al Museo Egizio del Cairo. Pur essendo stati scoperti dopo la decifrazione della stele di Rosetta nel 1822, i reperti meglio conservati del decreto di Canopo presentano un numero maggiore di geroglifici e il loro studio ha posto fine a ogni dubbio residuo sulla decifrazione della stele di Rosetta. Per questo motivo, la loro iscrizione è considerata seconda solo a quella della Rosetta per importanza nella comprensione dell'antico Egizio. Sappiamo anche che, alla fine, la disposizione di Tolomeo III di aggiungere un giorno in più al calendario ogni quattro anni non ebbe successo, ma non sappiamo quando e perché le sue indicazioni furono ignorate. È possibile che i sacerdoti che controllavano il calendario non volessero modificare le loro tradizioni, o forse pensavano che la deriva delle stagioni lungo il calendario fosse impercettibile nell'arco dei 40 anni di una vita media dell'epoca. Quello che sappiamo è che quando i Romani annesserò l'Egitto, nel 30 a.C., gli Egizi usavano ancora un calendario di 365 giorni, e che nel 22 a.C., pochi anni dopo che il calendario Giuliano, di ispirazione egiziana, era stato adottato a Roma l'imperatore Augusto reintrodusse il giorno bisestile presso gli Egizi.